Musica Bella a tutti ragazzi, sono Midino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video Cazzo, oggi siamo qua con il secondo episodio della serie Sniping in Live Come vedete sta per uscire Lei, lei La mappa Nuketown, cazzerola Ebbene sì, Nuketown Cosa ho contro Nuketown? Niente, solo che col cecchino C'è tutta la gente che fa boom boom con i pompa e voglio proprio vedere come andrà Adesso deve arrivare Bubba Ciupa Ciupa che mi vota Casuale, casuale, no, uscita Nuketown Vabbè, uscirà una partita di 20 secondi Potrei farvi un nuclear, guardate che ho conto Potrei farvi il nuclear di pompa in live, ma non c'ho voglia Userò il cecchino, proverò a fare il risultato più carino possibile Per quanto su Nuketown esso sia possibile Perché appunto Nuketown è tutto boom boom qua, boom boom là E basta, oggi mi trovate un po' così Un po' su di giri, un po' giù di giri Infatti non lo so realmente che cos'ho Sono un po' contento, felice Non proprio per una cosa in generale Per una cosa in particolare In generale sono contento Oggi useremo questo mirino Mirino termico Dual Band a raggi Y Se qualcuno mi corregge sul raggi Y Guardate proprio Il peggio Fail Hit marker Io mi chiedo perché con sto mirino tiro solo hit marker Non è vero, l'ho preso L'ho preso anche questo Ora faccio il nuclear di sniper Su Nuketown Mi prendono nei Cagnage No ma che cazzo Cioè ma Oddio Un po' che Nuketown la devi giocare un po' così L'ho preso Fa schifo da dire però No Ha una dal coso lì che fa esploder tutto Come si chiama Attacco fulminio Non puoi uccidermi in quel modo Ti disprezzo Fail Preso Nuketown devi giocarlo un po' camperato Cioè ovvio Se vai per clip no Fail Certo questi qua non sono niente di che Come giocatori Che cazzo Non mi chiedete come sta succedendo tutto ciò Soprattutto perché io stavo Uccidendo gente Che su Nuketown di solito faccio 1.26 Oddio Oh che cazzo What 14-1 va bene Ho il boom boom A caso Di qua Fermiamoci Magari facciamo lo stealth Boh Non lo so Triplo Triplo Really Ma chi sparo Andiamo via che voglio lo stealth Ho 21 Esci di qua Doppia Ma c'è che cazzo è raga Raga Aiuto È un avvenimento strano quello che sta succedendo oggi Ma ok Ragazzi Lancio giù dalla finestra Tutto quello che ho qua Perché non può Non è possibile Preso Dove cazzo l'ho messo lo stealth Che non uccide nessuno Vabbè 22-3 Dai stiamo giocando bene Certo che dire così tranquilli Stiamo giocando bene Ad un 22-3 Col cecchino Su Su Nuketown Qua faccio la feed Tra me E L'elicottero Mettiamoci qua dietro Guarda lì su Vabbè Sto anche facendo tante kill di Semtex Di solito raga ve lo dico Cos'è che mi tira l'uav di disturbo Vabbè Io sono proprio stupido Che mi tira l'uav di disturbo E cosa faccio Lancio l'uav Però Cioè Mi sto chiedendo Dai magari facciamo Arriviamo a 30 Una kill Ok Boh Raga Che cazzo devo dire Fail Fail ancora però Cioè Ragazzi sono scioccato anch'io eh Più di quanto voi possiate esserlo Cioè Sto facendo 31 test Su Nuketown Stiamo scherzando Uno Quadrupla Quintupla Quadrupla Ma che cazzo è Ragazzi Portatemi via È andata Ciao Oh XLZ Nexus Il mio amato XLZ Nexus Ok Ok ragazzi Me ne vado Prendo Ciao Addio Cioè Ti lascio tutto Che cazzo 36 Ma che cazzo 36 4 Di sniper Su Nuketown What Ragazzi basta Lascio tutto Non ci posso credere No ma Sono sconcertato anch'io Perché cazzo Su Nuketown È uscito un video da 4 minuti e qualcosa Ma che cazzo Vabbè ragazzi Guarda non ci credo Sono Cioè È stracontento Stracontento Mi sto battendo addirittura la mano Addirittura un senza pietà Mi sto battendo la mano sul ginocchio Dalla contentezza Ma che Vabbè Non ci credo ragazzi Comunque ragazzi Quale video è giunto al termine Un risultato Inaspettatissimo Non me lo sarei mai Aspettato E La partita mia Con lo sniper Più bella di sempre Ve lo devo dire Che poi venga in live con voi Sono ancora più contento Comunque ragazzi Vi ringrazio per tutto il seguito Che stiamo avendo sul canale Siamo quasi 8000 iscritti Un numero che non mi sarei mai aspettato Di raggiungere così velocemente Dagli ultimi traguardi Appunto Siete tutti fantastici Vi amo davvero tutti Con il cuore E appunto Vi porto questi video Boom boom E basta ragazzi Quindi Spero che il video davvero vi sia piaciuto Come è piaciuto a me A giocare quella partita Se così vi invito a lasciare Un mi piace Un commento Se ancora non lo siete Iscrivetevi al mio canale In descrizione Trovate La mia pagina facebook Dove passate Che le scrivo post Relativi a youtube È il mio profilo personale Dove scrivo cose un po' più Appunto Personali Banana E quindi se volete Cliccate il tasto segui Per vedere gli aggiornamenti Che lascio Quindi ragazzi Qua il video è giunto al termine Per oggi Damidino è tutto E Bella